Sono oltre 13.000 gli aretini costretti a casa dal virus in queste ore. I numeri sono contenuti nel report della ASL Toscana Sud-Est. Gli attuali positivi in carico sono 7.867, mentre i contatti stretti di caso sono 5.303. Sul fronte dei nuovi contagi oggi sono 521, un calo importante rispetto alle scorse ore. I nuovi positivi sono quasi dimezzati, tra l'altro di fronte a un numero importante di tamponi 5.834. In tutta l'area vasta, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 1.415. Nella giornata di oggi, 24 gennaio, è purtroppo deceduto un uomo di 95 anni vaccinato e con gravi patologie e comorbidità pregresse. Stabili i dati riguardanti le ospedalizzazioni, 40 gli ospedali assistiti all'ospedale di Arezzo, di cui 32 in bolla Covid e 8 in terapia intensiva. Il 65% di loro non è vaccinato. 12 i pazienti risultati positivi al virus al momento dell'ingresso in ospedale, dove si hanno recati per altre patologie. I guariti di oggi, infine, sono 715.